Buongiorno da FTA Online, avvio positivo questa mattina per le borse, in particolare il nostro Futsimil sta guadagnando lo 0,82% al momento a 23.690 punti circa, siamo in una situazione positiva, il rimbalzo dai 23.600 punti toccati anche questa mattina sembra in grado di continuare con un primo target a 23.8 e uno successivo sulla resistenza critica dei 23.900 punti. Ci sono alcuni titoli che si comportano molto bene questa mattina, tra i quali Telecom Italia in rialzo quasi del 2%, su Telecom Italia abbiamo visto gli analisti di Jefferies che hanno promosso il titolo a buy da hold con un prezzo obiettivo che sale a 1,35 Euro, quindi ben al di sopra dei prezzi attuali. La variazione da inizio anno per il titolo è del 26,5% circa, mentre nell'ultimo mese in termini relativi sul Futsimil share il rialzo è stato del 5,7% circa. Il prezzo di oggi a 1,14 quasi ci riporta molto vicino ai massimi della settimana scorsa toccati a 1,1430 a loro volta allineati con i massimi del 16 di marzo a 1,1450. È quindi evidente che in quest'area c'è una resistenza molto significativa, sarà interessante vedere se i prezzi riusciranno a portarsi a di sopra di questi livelli ed in quel caso avrebbero il via libera per andare a testare il lato superiore del canale crescente che è possibile disegnare dai minimi dello scorso ottobre che fornisce una prima resistenza per il titolo a 1,25 circa. Sopra quei livelli ci sarebbe la possibilità di salire fino a 1,35 invece. Se dovessimo scendere al di sotto della media mobile a 20 giorni che transita a 1,09 ci sarebbe invece il rischio di test della base del canale rialzista che abbiamo individuato che transita a 1,03 e 50 circa. Passiamo ora invece al settore del cemento, questa mattina si stanno muovendo molto bene sia i buzzi che i talcementi, buzzi rialza il 2,15% e abbiamo visto HSBC promuovere il titolo a buy da reduce con un target price che sale a 16,90 Euro dai precedenti 11,60 Euro. La variazione da inizio anno per buzzi è del 32,5% circa, mentre nell'ultimo mese in termini relativi il risultato sul Fuzzi All Share è stato del meno di 86%. Il titolo sta disegnando da alcune settimane una fase laterale che è compresa tra una base posizionata in area 13,60 e un limite superiore invece che si colloca a 14,90 Euro. In questo momento siamo a 14,25 Euro, quindi più o meno nella parte centrale di questo intervallo. le aspettative sono che fino a che la base di questa forma rettangolare verrà rispettata, quindi fino a che il supporto di 13,60 tiene, le aspettative sono di una forzatura del lato alto di questa fascia con una successiva fase crescente che potrebbe essere proporzionale all'ampiezza della fascia stessa, quindi con un target per il titolo che si posiziona intorno ai 16,20 Euro. Se invece dovessimo assistere ad una violazione della base di questo intervallo, con conseguenza di scesa di sotto dei 13,60 Euro, ci sarebbe il rischio di un test della media mobile a 100 giorni che transita in area a 13 Euro, coincidente in questa fase con il 38,2% di rialzo dai minimi di gennaio. Comunque ribadiamo il fatto che trattandosi di una figura di forma rettangolare inserita in un trend rialzista, l'ipotesi più probabile è che questa sia una figura di continuazione della precedente tendenza e che quindi il risultato di queste oscillazioni sia una rottura verso l'alto della resistenza e il proseguimento del rialzo fino a oltre 16 Euro. Situazione analoga anche per i talcementi, per la quale HSBC ha portato il giudizio da reduce a buy, il target price è stato 8,40 Euro nel precedente 5 Euro, in questo caso la variazione percentuale all'inizio anno è positiva del 25,5% circa e nell'ultimo mese invece rispetto al future share il titolo ha ceduto il 3,73%, quindi risultato leggermente inferiore a quello di Buzzi, se andiamo a guardare il quadro di forza relativa che mette in rapporto i due titoli, possiamo verificare che effettivamente nel corso dell'ultimo trimestre la forza relativa ai talcementi su Buzzi è stata favorevole a Buzzi, nel corso delle ultime due settimane tuttavia c'è un tentativo di inversione del trend di forza relativa, quindi di una situazione di decisa sovra performance di Buzzi sui talcementi ma è ancora troppo presto per dire che ci sia stata effettivamente un'inversione, quindi al momento probabilmente continua a essere premiante la scelta di Buzzi sui talcementi, questo non significa che talcementi non abbia spazio per salire, con i minimi toccati nel corso del mese di maggio il titolo ha ritracciato il 50% circa del rialzo che si è visto dallo scorso novembre, quindi ci sono i presupposti per assistere a una bella ripresa del trend in termini rialzisti, sappiamo che il 50% di esalciamento è una percentuale di correzione che si sposa bene con l'ipotesi di una successiva ripresa del rialzo, abbiamo anche disegnato nel corso del mese di maggio un testa a spalle rialzista, la cui neckline è stata superata a rialzo proprio nel corso dell'ultima settimana, testata poi nuovamente dall'alto proprio venerdì, con il rimbalzo di oggi, quindi ci stiamo allontanando dalla neckline e non si può escludere appunto un movimento di ripresa del rialzo anche consistente, una prima area di resistenza importante si colloca a 6,80 Euro, sopra quei livelli ci sarebbe la possibilità di vedere il ritorno sui massimi dell'anno in area 7,60 Euro, solo se dovessimo assistere alla violazione della linea di tendenza che sostiene tutto il rialzo che abbiamo visto dai minimi dello scorso novembre, quindi solo in caso di scesa di sotto di area 6,03-6,04, ci sarebbe il rischio di un proseguimento della fase negativa fino al livello di ritracciamento successivo al 50%, quindi il 61,8% posto a 5,40 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi suggeriamo di commentare il nostro video e proporre quelle che potrebbero essere delle scelte di strumenti da analizzare e vi auguriamo buona giornata e dandovi appuntamento alla registrazione giornaliera di domani, grazie.